Carissimi spettatori di Chiasso TV, oggi sarò relativamente breve, ma sicuramente a volte dovrò scendere nel triviale, perché la domanda di oggi è ma quanto inquina la scoreggia di una mucca? Scusate, sì, lo so, si potrebbe usare peto e via dicendo, ma io stamattina ho letto su almeno un paio di quotidiani online un breve scritto che mi sembrava di più uno sfogo del gran consigliere Giovanni Verardi del centro. Vostro onore, chiediamo la grazia per le mucche svizzere. Non sto ovviamente a leggere tutto l'articolo perché potete trovarlo tranquillamente online. Mi limito a sottolinearne un passaggio abbastanza inquietante. In Irlanda il governo sta studiando un piano per abbattere 200.000 bovini, mentre in Svizzera è pendente un'iniziativa popolare tesa a ridurre drasticamente il numero di mucche. Ora io aggiungo, ad agosto dell'anno scorso, i giornali titolavano così, per ridurre l'inquinamento da azoto e ammoniaca, il governo di Mark Rutte, il più longevo d'Europa, propone di abbattere 100 milioni di capi tra mucche, maiali e galline entro il 2030 e scoppia la violenta protesta di allevatori e contadini. Questo è successo in Olanda. Tutto questo perché? Semplicemente perché i contadini, che oggi sono in buona parte agronomi diplomati e magari anche con un paio di master sul groppone, hanno capito che con, passatemi il termine, perché al mio paese si chiamava così la buascia, si fa il biogas. È una vita che lo diciamo. Si fa il pieno al trattore, perché si può anche fare il pieno al trattore, se invece che andare a diesel al va a gas, si rende la fattoria energeticamente indipendente e si fornisce, o meglio si può fornire anche energia elettrica a centinaia di famiglie. Ecco cosa vi spaventa veramente. Sottolineo, ecco cosa vi spaventa veramente. Siete terrorizzati dal vero green, dall'energia circolare, no? Che toglierà buona parte del business a qualche multinazionale. Allora facciamo sparire le mucche, così. Andiamo a fare un giro a Taingen, in Canton Schaffusa, a fare visita alla famiglia, alla fattoria della famiglia Müller. Se volete tutti i particolari in lingua italiana, troverete su RSI Play un bellissimo servizio di Fabio Storni del 16 agosto 2022. Ma adesso, dato che è l'unico servizio che abbiamo disponibile in lingua italiana, vediamo uno spezzone, uno spezzone sulle auto che fanno la coda ad andare a fare il pieno, parliamo di auto a gas, ok? All'azienda agricola Bosco Gerolo, Val Trebbia, vicino a Piacenza, in Emilia. Il biometano che eroghiamo è un vero e proprio metano, puro all'incirca al 99%, ed è esattamente come il metano che tutti noi conosciamo. La differenza è semplicemente da dove deriva, cioè non è un metano fossile, ma un metano derivato da energie rinnovabili e quindi da biogas. È un biometano che viene prodotto da tutti quelli che sono i refluizzi tecnici dell'azienda, più una quota di sottoprodotti dell'agricoltura. Una volta che si è agganciata la manichetta, si torna di nuovo al servizio di pagamento e si schiaccia il pulsante di erogazione. Quando poi finisce, si blocca da solo, a quel punto si sgancia la manichetta, si riposiziona e se si vuole si viene a riferirla alla ricevuta. Noi l'abbiamo fatto perché Bosco Gerolo è un'azienda agricola che crede in un'economia circolare, crede nel prodotto a chilometro zero e crede nell'energia da fonti rinnovabili. Oltre a questi impianti infatti abbiamo anche un altro digestione aerobico per la produzione di biogas destinato all'energia elettrica in autoconsumo dell'azienda e si vuole concludere un po' quello che è davvero un'economia circolare cercando di valorizzare tutto quello che è possibile valorizzare in agricoltura, quindi compreso quello che viene considerato scarto, sottoprodotto, refluo. La produzione giornaliera massima è sui 2060 metri cubi. Anche qui il filmato integrale lo trovate su YouTube insieme al video di decine decine di aziende agricole che hanno fatto la scelta bio e producono biogas con la buascia, la cacca delle mucche. Quindi ricordatevi ricordatevi che a differenza di una volta che si diceva al contadino non far sapere quanto è buono il caccio con le pere, oggi i contadini sanno benissimo quanto sia buono il caccio con le pere e sanno anche che è più facile morire di ignoranza che per le scorreggie delle mucche. Grazie a tutti.